...degli interferenti endocrini, cioè che cosa fanno? Allora, tanto per intenderci, gli installati si possono trovare anche nelle bustine da te. E che cosa succedeva? Succedeva che in qualche modo la legge impone che ad esempio la carta e il cartone destinati al contatto devono essere realizzati con cellulosa vergine pura. Invece a volte capita che per evitare, diciamo, che ci sono degli inchiostri che in qualche modo possono trasferire non soltanto gli installati ma anche il piombo. Gli installati insieme, lo dico, al BPA, che è il bisphenol, praticamente lo ritroviamo nei biberon, tanto per intenderci anche, sono delle sostanze che noi invece, nel mio caso mi interessa, perché chiaramente parlerò di questo, le lattine. Le lattine cosa hanno fatto? Invece di saldarle, no? Ora con il piombo, perché così non abbiamo più il piombo, però in qualche modo abbiamo utilizzato quest'altro materiale che è il bisphenolo A all'interno e che praticamente, quindi chi beve anche i Coca-Cola, insomma, sono abbastanza che le conserve, le scatole di tonno, insomma, in qualche modo possono contenere questo bisphenolo A, che per ora dicono che non d'essere grandi problematiche, ma comunque, fatto sta, vi dico soltanto questo, che addirittura alcune patologie, tra cui il diabete, l'ictus e l'obesità, pare che siano state riscontrate anche e correlate a livelli elevati di questi interferenti endocrini. Infatti si chiamano così proprio perché interferiscono con quello che è l'attività di alcune ghiandole. Le ghiandole producono ormoni, l'insulina, insomma, in qualche modo ci potrebbe essere una correlazione. Ceramica, va benissimo, l'unica problematica è che nel caso in cui la parte finale di truttura non viene realizzata correttamente, ci potrebbe essere un pericolo di contaminazione che è chiaramente dovuta sempre alla smaltatura o alla vetrificazione, perché la ceramica solitamente viene inserita una patina trasparente che si chiama vetrina. Acciaio inossidabile, le criticità risiedono soltanto nella lega, che costituiscono, che possono eventualmente emigrare negli alimenti, che possono essere nickel, cromo e manganese. Il rame non ci sono grandi problematiche, è un ottimo conduttore di calore come materiale, quindi ottimo per la cottura anche in forno e in umido, non deve andare a contatto con gli alimenti, tanto è vero che poi c'è il fondo in acciaio inox oppure in ceramica e teflon.